Signor Holmes, ho sentito dire che a lei piace risolvere i piccoli rompicapi. E questa mattina me ne è capitato uno. Per bacco. Buongiorno, signor Holmes, vi apposento il signor Henry Baskerville. Già, proprio io, mi ha piacere come a sapere. Abbiamo avuto un'esperienza strana già nel giro di pochi giorni a Londra. Probabilmente si tratta di uno scherzo. Non posso stipendolo a Brugliera. Non puoi immaginare quanti misteri nascondo. Succedono cose molto strane vicino a Baskerville, con la Brugliera. Mentre dal biglietto che ha ricevuto direi che qualcuno la sta avvisando del progetto. Non posso spiegarglielo, ma è per il suo bene. Non metta mai più piede sulla Brugliera. Il biglietto. Ecco l'altro. I contadini dicono che siamo assunti di Barley. Lei conosce tra gli amministri? Io non credo a queste sciocchezze. Continuo a dirle che è una faccenda privata. Questo è un segnale. Avanti, Barley. Cos'è questa conspirazione? Imparati dunque da questa storia a non temere i frutti del passato, ma piuttosto ad essere cauti in futuro. Così che le torbide passioni che la nostra famiglia ha tanto sofferto non debbano di nuovo scatenarsi. Per distruggerci. Per distruggerci. Per distruggerci. Per distruggerci. Di l'alle Growing. Allora,